Associati olivicoltori ben ritrovati alla cinquantesima edizione del periodico 16 dicembre 2022. Degli olivetti ancora qualche olivicoltore sta raccogliendo le olive ma oramai siamo a esaurimento quasi completo di questa attività e le piante si possono considerare già in riposo vegetativo. Ne avevamo parlato la settimana scorsa degli improvvisi abbassamenti di temperatura e in effetti in questa settimana sono arrivati. Abbiamo avuto temperature durante la notte anche di meno 2-3 gradi sotto lo zero e le temperature diurne sono state mediamente sui 6-7 gradi centigradi fredde quindi per la pianta dell'olivo e già in alcuni olivetti che sono a quote di 500-550 metri hanno iniziato a mostrare dei danni da gelo sulle punte delle foglie. Segno che le nostre previsioni se non erano corrette ci sono andate molto vicino perciò ricordiamo agli olivicoltori che se non hanno provveduto è meglio che ritornino negli olivetti per apportare come avevamo detto un 15 giorni fa delle sostanze che aiutino la pianta a superare meglio questi periodi di gelo improvviso questi abbassamenti di temperatura anche perché abbiamo avuto per due giorni una azione di gelicidio. Che cos'è il gelicidio? Il gelicidio è quella attività che svolge la pioggia oppure la neve quando si ferma per lungo tempo sugli rami e rametti degli alberi e gela. Gela in maniera tale che il freddo penetra nei tessuti della pianta magari quelli appena sotto l'epidermide perciò possono creare anche dei danni se si protrae nel tempo questo stato climatico. Alcuni nostri associati hanno chiesto di spiegare le modalità con le quali si concentra il succo cellulare all'interno dei tessuti. Come fanno gli ioni fosforo e potassio a penetrare all'interno delle cellule? Probabilmente o meglio sicuramente era un aspetto che non avevamo approfondito così con l'aiuto della nostra lavaia andremo a spiegarlo seppure in maniera molto semplice. Quando noi utilizziamo degli elementi fertilizzanti per abbassare il punto di congelamento dei tessuti vegetali operiamo un sistema biochimico interferendo su quella che è la normale attività di una pianta. Come avviene? Gli elementi fertilizzanti vengono assorbiti dalle radici oppure vengono dati con concimazioni foliari. Una volta che gli elementi fertilizzanti entrano all'interno della pianta veicolano fra i tessuti mediante il flusso linfatico. Flusso linfatico che trasporta gli ioni, ioni potassio e ioni fosforo che sono quelli che vanno maggiormente a concentrarmi il mio succo cellulare. si posizionano vicino alle membrane cellulari e entrano nel sistema cellula perché c'è un diverso potenziale di concentrazione, ossia esiste una concentrazione diversa fra l'interno della mia cellula e il flusso linfatico stesso. La membrana cellulare è molto permeabile ma alle volte è impregnata di lignina e in questo caso si aprono dei canali di passaggio. Se c'è una concentrazione minore di sali all'interno del mio citoplasma allora il mio ione fosforo e il mio ione potassio entrano all'interno, mi aumentano in termini impropri la salinità della mia cellula, non è un termine scientifico naturalmente, comunque sono presenti anche nel mio sistema linfatico e in questo modo attuano all'interno dei tessuti stessi la capacità di abbassarmi il punto di congelamento. Questo tipo di concentrazione sempre impropriamente di sali all'interno del mio sistema crea la possibilità alla pianta di superare gli stress invernali, gli stress da freddo. Ricordiamo che i danni da gelo, anche limitati, possono creare delle micro ferite sulle foglie come sui rametti e possono essere veicolo di infezione da rogna dell'olivo. Anche di questa patologia ne abbiamo parlato e anche se siamo in un periodo invernale questo battere penetra all'interno ed è capace di andare ad infettare i nostri tessuti. Perciò se ci accorgiamo che nei nostri olivetti il freddo, il gelo crea delle micro ferite o delle ferite anche ben visibili, è meglio tornare nell'oliveto ed eseguire senza aspettare la ripresa vegetativa un intervento fitosanitario con dei prodotti rameici in modo da disinfettare queste ferite considerato che il rame ha una azione battericida. Da considerare anche che sono possibili delle piccole fitotossicità per le basse temperature, perciò se andiamo ad eseguire questo intervento fitosanitario cerchiamo di farlo nelle ore più calde della giornata. Un consiglio per chi ha l'olio a casa per uso familiare e non ha eseguito la filtrazione. Oramai sono passati 20 o magari 30 giorni dal momento della mulitura e è bene eseguire o prima di Natale o dopo Natale un travaso in modo da levarlo dai depositi di morchia che ci sono formati. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima! Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia